Questo che si stacca è cemento? Eh sì, il cemento e il ferro come potete vedere si piega con le mani, perciò il suo lavoro non lo fa più, certamente. Il procuratore di Arezzo Roberto Rossi ha affidato la perizia per verificare la stabilità di questo pilone che si trova a lungo la E45 nel viadotto Puleto, nel comune di Pieve Santo Stefano. A denunciare le condizioni in cui versa la struttura era stato Massimo Tizzi, un poliziotto in pezione, che si era imbattuto nella colonna mentre andava a cercare funghi e tartufi. L'uomo aveva ripreso tutto con il cellulare e poi lo aveva postato su Facebook. Le immagini avevano messo subito in moto i carabinieri della squadra di polizia giudiziaria della procura guidata da Antonello Di Palo, che durante il sopralluogo avevano verificato anche la consunzione della soletta con la quale il viadotto si appoggia al pilone di sostegno. La perizia adesso è stata affidata agli stessi tecnici che avevano analizzato la zona della piazzola franata lo scorso febbraio tra le due uscite di Pieve Santo Stefano, sempre lungo la E45. Da quella superperizia era emersa la carenza di manutenzione dell'area crollata, accusa che aveva portato a tre avvisi di garanzia contro altrettanti dirigenti e funzionari dell'ANAS per disastro colposo. Adesso i periti, l'ingegnere Antonio Turco, il collega Fabio Canei, e il geologo Simone Mancini, si sono presi 60 giorni di tempo al termine dei quali si pronunceranno su quanto sia seria la situazione del viadotto e soprattutto se possano verificarsi situazioni di pericolo per chi percorre quel tratto della E45. Al momento il procuratore della Repubblica Roberto Rossi sta lavorando a due filoni di inchiesta sulla E45, uno condiviso con Forlì, che vanno dall'attentato alla sicurezza dei trasporti al disastro colposo. La procura di Arezzo infine aveva aperto un nuovo fascicolo, al momento ancora di carattere conoscitivo, proprio sulle condizioni del viadotto Puleto.